Non può esistere uno sviluppo economico vero, reale del territorio se non vi sono delle infrastrutture adeguate in grado di supportarlo. Ne parliamo con il dottor Vito De Palma che è candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia. Il sistema delle infrastrutture è la condizione principale se vogliamo dare al sistema delle imprese ma al territorio in generale, non soltanto dal punto di vista imprenditoriale ma anche dal punto di vista culturale, va affrontato in maniera seria. La provincia Tarantina ancora oggi continua a parlare dopo decenni di bradanico-salentina, altre regioni d'Italia questo tipo di investimenti riescono a chiuderli in un mandato elettorale. Il nostro territorio può volare alto se il sistema infrastrutturale, sia quello viario, sia quello portuale, sia quello aeroportuale, è nelle condizioni di oggi affrontare questa nuova modernità. Come lo affronta? Certamente non facendo terminare l'autostrada Massafra oppure non relegando l'aeroporto di Grottaglie a un mero e semplice aeroporto di serie B ma manco di serie D addirittura e soprattutto valorizzando il sistema portuale che secondo me è quella condizione che può veramente far fare il salto di qualità non soltanto a Taranto città ma a tutta la provincia facendola diventare veramente importante e punto di riferimento in tutto il tessuto economico regionale.